A volte vorrei avere solo un giorno per sentirmi un vero orco di nuovo. Nessun problema, le transazioni magiche sono la mia specialità. Una firmetta. E entro la fine della giornata tu ti sentirai un orco nuovo. Dunque, che succede ora? Buona giornata. Il 3D è un nuovo e stupefacente strumento per raccontare storie se messo nelle mani di un grande regista. Non è solo un esercizio, un trucchetto. Insomma, io credo che si debba pensare al 3D come a una sorta di rivoluzione. Come dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore. Ciocchino di un orco, è tutto cambiato. Sono re ora. Questo marcellino vuole andare a casa. È uno strumento che amplifica i sentimenti, le emozioni. Ecco perché penso che nella prossima decada il 3D sarà lo strumento prevalente con cui si realizzeranno i film. Fiona! Che felicità! Ti ho trovato! Dove l'abbiamo scovato questo qua? Shrek ci ha dato la possibilità di ridere di noi stessi, ridere della cultura pop e dell'anticultura pop. Ma dopo tutti questi anni Shrek stesso è entrato a far parte del pop. Stanotte attacchiamo! Benvenuto nella resistenza. E chi lo sapeva? Benvenuto nella resistenza.